Allora, ciao Maria, tu sei la responsabile dei progetti educativi qui al Centro Vintola. Tante novità come ogni anno, tanti corsi, tante cose, insomma, raccontaci tu che sei sicuramente più esperta di me. Beh, ciao a tutti. Siccome ogni anno il Centro cerca di rinnovarsi nei progetti, anche perché le richieste da parte dei ragazzi cambiano e anche noi cerchiamo di dare una varietà negli anni anche di proposte. Quest'anno, oltre alla normale attività ordinaria, quindi quella sportiva, quella musicale, ci sarà una novità. Noi da qualche anno ospitiamo Giovanni in Scena, questo corso di teatro proposto dal Teatro Sabile di Bolzano e proprio per questo motivo in questi anni abbiamo stretto questa collaborazione perché molte prove vengono fatte qui nel Teatro del Vintola. Osservando i ragazzi ci sono venute in mente varie idee, ne abbiamo parlato con la provincia, con l'ufficio Servizio Giovani e abbiamo deciso di proporre questo corso di costumi, di costumistica, che avrà come titolo Costume Mon Amour. È un corso che verrà gestito da una professionista del settore, partirà la prima lezione a dicembre per poi proseguire a gennaio. Allora, Cristina, sarai proprio tu a tenere questo corso di cui ci ha parlato prima Maria che si chiama Costume Mon Amour. Raccontaci tutto, vogliamo sapere tutto. Intanto buongiorno a tutti. Il corso, appunto, come diceva prima Maria, è sponsorizzato, diciamo, dalla provincia e dal centro Vintola. È un'opportunità per i giovani, per le giovani, di acquisire, diciamo, una competenza o comunque una spolverata di quello che potrebbe essere un loro futuro, una possibilità di studio o di carriera o di quant'altro. Viene articolato da dicembre fino a maggio e sarebbe come prova finale, diciamo, abbiamo la realizzazione dei costumi per il saggio dei giovani in scena, di questo progetto che è già collaudato, sta andando avanti da anni con il teatro stabile di Bolzano. Diciamo che il corso vuol fare innamorare Costume Mon Amour i giovani a questa professionalità che esiste nel teatro da molto tempo, che è la costumista, che lavora in simbiosi con la regista dell'opera, in questo caso con Flora, e dove i giovani devono dare, insomma, attivamente una parte sia emotiva che professionale. Chiaro che il percorso starà strutturato in una parte teorica su quella che è la storia del costume. E mia, diciamo, ambizione è far sì che questi ragazzi si innamorino di questa professionalità, carpiscano quelle che sono le dinamiche all'interno di questi progetti teatrali, queste grandi macchine da guerra, diciamo, perché comunque così è, e imparino ad amare tutto quello che fa parte dell'arte, perché anche in questo il costume, come tradizione, comunque fa sì che nel momento in cui si elaborano opere insomma, non attuali, bisogna fare uno studio profondo su quello che è stata l'epoca in cui si svolge l'opera. Allora, io Cristina ti ringrazio e direi che magari ci rivediamo quando il corso sarà in corso e venremo a vedere, insomma, come si svolgerà. Grazie mille. Grazie a voi e soprattutto potete venirci a vedere durante il corso, che non sarebbe male. Arriveremo.